Prendiamo 250 grammi di farina 00, aggiungiamo mezza bustina di lievito vanigliato, aggiungiamo un uovo e un tuorlo. Cominciamo a mescolare. Aggiungiamo la scorza di mezzo limone e 40 grammi di burro fuso. Poi dobbiamo impastare con le mani, aggiungendo un pochino alla volta un 50 ml di vino bianco. Un po' alla volta e non mettetelo tutto perché è in base a quanto assorbe la farina. Mettetelo sempre un pochino alla volta in modo da fare un impasto liscio e omogeneo. Dopo averlo impastato per un 10 minuti, quando avete ottenuto proprio un bel panetto morbido, così, bello elastico e morbido, lo fate su con la pellicola trasparente e lo lasciate riposare per mezz'oretta, così si rilassa bene e si stende meglio. Prendiamo il nostro impasto, magari lo dividiamo a metà, così possiamo farne metà alla volta e l'altro lo teniamo sempre chiuso, al calduccio con la velina e cominciamo a stenderlo. Proprio fine fine, potete farlo anche con la macchinetta, ma io non c'ho voglia di starvi a tirarla fuori, provo a farlo così. Dobbiamo farlo proprio fine, fine, fine. Quando è proprio bella fine, con una rotella, vediamo di fare dei rettangoli, eh? Poi magari questo lo rimpasto, le farei un po' piccoline, così. Tipo una cosa, se volete fare anche il taglietto in mezzo, tipo una cosa così, col taglietto. Facciamo scaldare bene l'olio, mi raccomando non troppo bollente, perché poi bruciano, eh? Deve essere caldo ma non bollente, però deve friggere. Quindi dobbiamo fare una prova per vedere quando comincia a fare le bollicine. Scusami, mettiamo dentro così, da sentire, quando comincia a fare, vedi così? No, ancora no. Quando fa proprio le bollicine, vuol dire che ora. Facciamo friggere, bene da una parte, poi dall'altra, eh? Più le fate fini, e guardate che bolle che fa. Guarda, guarda, guarda come è fine, come una carta velina. Aspetta, faccio vedere le bolle. Aspetta, aspetta, aspetta. Guardate che bolle, eh? Guardate che bolle. Aspetta che sia questa. Guardate le bolle. Oh mamma. Guarda, guarda, eh? Guardate che bolle. Ho le bolle. Guardate che bolle. No vabbè ragazzi, ma guardate le bolle. Allora, le prime che ho fatto sembrano quasi un po' così spesse, sembrano un po' biscottate. Ma le ultime, poi, le ho tirate proprio fini, fini. No, no, guardate le bolle. Guarda questa, no, ce n'è una che è tremenda. Guarda questa. Ma io ho mai visto delle chiacchiere così. Beh, comunque, mettiamo lo zucchero a velo. No, vabbè ragazzi, ma che roba è questa roba qua strana. No ragazzi, sentiamo. Guarda la bolla. No, non ci credo. Ragazzi, fatele perché sono bollose, croccanti e buonissime. Mi raccomando, proprio tiratele fini, 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 eh? Che vi vengono così. Va che bolle. Ma che roba. No, ma guarda questa. Fatele.